Ciao a tutti, altro Robby 6, altra recensione di un trailer. Oggi parliamo di Human Droid. Ah, vai! Tona, i robot! Il robot di Playboy! Pervi tutti! Bungyver, Wolverine! The Millionaire! Windows 8.0! Sì! Puttana che zazera che ha, Yung! Sì! E viene massacrato dal robot! Oh, bel replay! L'ho venduto alla Apple! Numero 5! Puttana, boy! E do pala, i miei cani! Cos'è? Libro di Ciappi? Sì, e tu? Ciappi ha storie, Ciappi è un libro! Ciappi è un cane? Tellere, tellere, me! Ehi! Crea un iPhone! Dai! Fittadio! In nome di Dio, che succede? Te lo mettono nel gluteo! Perché è un problema per me? Sì! Perché sono invidioso perché non guadagno una lira! Non si può essere la fine per l'umanità! Distruggi quell'Androide! Mazzalo, sicco! Talla Wolverine, tira fuori gli artigli che non li hai! Perché non sei Wolverine! E di tutte le robe volante! Ci sta raggiungendo! Sì! Diventiamo milionari! Lo stile inconfondibile, Neil Blancam, nato all'Ikea! Voglio vivere! Voglio vivere! Voglio vivere! Sì, vuoi vivere i Ciappi! Sei di metallo, se non vivi tu! Santo Dio! Quattici! Si cominciano con lo snap e paccoli robotiche! Vai, che arriva Robocop! Chiamate Robocop! Ci pensa a lui! Vivo o morto, tu verrai con me! Tu pensi di essere vero? Tanno gli second braccio, Yugo! Che sto sceghi! Santo Dio, lui è simpatico! Che rete gari! Io sono coscienza! Io sono vivo! Io sono Ciappi! E do palla ai miei anni! Io un droid! Con l'I come è! Polo, cos'è? Hi, human droid! Ad aprile, bella nil! Bella nil! Bella nil!